Buongiorno, bentornati a Medicina 33. Cosa ha a che fare il dentista con un medico sportivo? Molto perché lo stato dei denti influenza moltissimo le prestazioni atletiche, lo vedremo. E poi parleremo di cuore femminile, fuori da ogni battuta scontata, diciamo il cuore delle donne è diverso da quello degli uomini. Ci sono diverse manifestazioni a cui però bisogna fare attenzione. Di questo parleremo con il nostro ospite in studio di oggi che è il professor Giovanni Esposito. Buongiorno, professore cardiologia Federico II di Napoli e presidente società italiana cardiologia interventistica GISE. Eccoci di nuovo in studio. Allora, professore, lo avete detto nel recente congresso tenuto a Firenze che si è focalizzato sulle caratteristiche del cuore femminile che ha caratteristiche proprie e spesso non dà segnali di sofferenza ma è ad alto rischio di INOCA. Di cosa si tratta? L'acronimo INOCA è l'acronimo di una ischemia cardiaca, quindi di un danno, di una sofferenza cardiaca dovuta alla mancanza di ossigeno esattamente uguale a quella che avviene nell'infarto classico che tutti conosciamo. La differenza è che in questo caso non ci sono delle ostruzioni nelle coronarie, quindi nei vasi che portano il sangue al cuore ma ci sono delle alterazioni della funzione di questi vasi. Ecco, quindi ischemia senza che siano coinvolte, ostruite le coronarie. Quindi però non è sufficiente più controllare soltanto le coronarie per essere tranquilli sulla condizione del cuore. Esatto, non basta. Ci hanno tutte quelle alterazioni tipiche dell'ischemia cardiaca, quindi dall'elto cardiogramma e tutti gli altri test. Però non possiamo fermarci a quello che è la valutazione della morfologia, dell'aspetto delle coronarie. Dobbiamo andare a valutare invece dei parametri aggiuntivi, cioè in pratica se le coronarie hanno una funzione alterata, cioè esiste uno spasmo della coronaria stessa o c'è un'alterazione del microcircolo, cioè quella parte di vasi che fornisce ossigeno a tutta la parte più interna del muscolo cardiaco. Ecco, questa patologia, diciamo queste ischemie, questa inoca che possono esserci senza l'interessamento delle coronarie, sono predisponenti ad altre patologie? Sì, sono fattori di rischio per poi eventi più gravi come l'infarto, oppure predispongono anche ad altre patologie cardiovascolari come lo stroke. Quindi come noi nell'ischemia cardiaca rappresenta un segnale di allerta, rappresenta un segnale di pericolo per cui poi possono susseguire fenomeni più seri come l'infarto. Vedete proprio l'inoca ha esattamente la stessa predisposizione delle altre tipologie di ischemia cardiaca. Però bisogna individuarla? E però bisogna individuarla. E oggi abbiamo degli strumenti aggiuntivi rispetto a pochi anni fa, cioè possiamo valutare proprio la funzione più precisamente, tutta la funzione del circolo coronarico. E quindi quando la paziente o il paziente, parliamo di paziente perché questo colpisce una percentuale molto più alta nelle donne, più del 50% si valuta rispetto all'uomo che invece avviene meno di un terzo dei pazienti, non dobbiamo fermarci solo a valutare quello che è l'aspetto delle coronarie, ma dobbiamo eseguire dei test durante esami coronarografico che ci permettono di eseguire la misurazione di come funziona il microcircolo o se c'è uno spasmo delle coronarie che poi provoca l'ischemia e quindi individuare. Quindi diciamo se c'è una paziente in fase ischemica però a cui viene fatto un controllo, bisogna fare tutti questi tipi di controllo ulteriori che però credo di capire non siano dei protocolli che si fanno diciamo di prassi. No, purtroppo non si fanno di prassi e questo è anche un po' l'alert che noi abbiamo voluto lanciare in quel convegno che abbiamo eseguito a Roma, quindi a Firenze. Noi dobbiamo andare oggi a fare una valutazione che deve essere fatta e non fermarci. Quando la paziente arriva con dei sintomi e quindi manca delle manifestazioni documentate come una scintigrafia cardiaca, una prova di sforzo, un'attack diciamo un po' ambigua sull'aspetto delle coronarie, quando la paziente fa la coronografia noi non dobbiamo fermarci semplicemente mostrando che le coronarie sono normali, ma dobbiamo invece effettuare la valutazione precisa di tutta la parte di fisiologia, di funzionamento del circolo coronarico. Ultima domanda perché siamo in chiusura, quali sono le donne più a rischio di questa patologia? Le donne per rischio sono le donne con fattori di rischio cardiovascolare classici, sono le donne obese, con sovrappeso come del resto anche gli uomini, quindi paziente che hanno fumatrici, paziente diabetiche, paziente anche con storia familiare di cardiopatia ischemica. Ecco, quindi diciamo che queste persone devono avere un pochino più di attenzione sulle proprie coronarie e forse chiedere anche al cardiologo di fare degli approfondimenti su questo. Assolutamente sì, questo è un punto molto importante, non bisogna fermarsi semplicemente a uno stato iniziale del percorso diagnostico, ma approfondire perché ovviamente come abbiamo detto anche questo può portare ad eventi cardiovascolari maggiori e quindi poi a eventi seri che compromettono poi in pratica la qualità di vita, ma anche la sopravvivenza dei pazienti stessi. Grazie professore, grazie e con questo vi saluto e l'appuntamento come sempre con Medicina 33. Arrivederci. Grazie a tutti.